Sono Mauro D'Adamo, la nostra missione è quella di soddisfare al massimo le aspettative del cliente per quelle che sono le sue esigenze nell'ambito di una nuova costruzione, di una ristrutturazione riguardo quelle che sono le porte, le finestre e qualunque tipo di chiusura quindi nella fase precedente alla vendita, nella fase di scelta degli elementi e ovviamente una fase a cui teniamo moltissimo che è quella della posa in opera anche dopo la vendita D'Adamo in fissi, apriamo le porte ai vostri progetti Grazie a tutti